...in cima ai miei pensieri sempre, anzi la più importante è l'intente del mondo. Alla fine abbiamo avuto dei movimenti che sono stati incredibili, ma che per il momento, visto che ne abbiamo parlato prima, l'hanno detto tanti interventi, l'unica cosa che io ho visto è stata che hanno prodotto dei buoni e di ditosi risultati elettorali. Benissimo, però sappiamo bene che tutto questo non basta, perché il problema non è il governo di una città o il governo di un paese là dove si devono andare ad alternare le forze politiche che sono comunque dentro il campo liberista. Per me il problema è di sistema e quindi è del tutto evidente che finché questi movimenti non saranno in grado di ribaltare questo sistema in cui noi oggi viviamo, serviranno sicuramente a darci una mano per il lavoro che facciamo dentro i nostri partiti politici di riferimento, perché voglio ricordare a tutti e a tutte che questa non è un'assemblea di partito, questa è un'assemblea di un soggetto nuovo che oggi, in questi due giorni, avrebbe dovuto e secondo me in parte ci è anche riuscito, discutere di quello che dobbiamo fare e non semplicemente di quello che non abbiamo fatto, di tutti gli errori che abbiamo fatto, del perché ci siamo arrivati troppo presto o troppo tardi, ma su questo ci tornerò. E quindi quello che accade in questo paese, le difficoltà enormi, incredibili di questa generazione, della nostra classe sociale di riferimento, del mio genere di riferimento rispetto al mondo del lavoro, rispetto al mondo della scuola e dell'università, rispetto alle tematiche, a come si vive il proprio rapporto con il territorio, con la terra, quindi le questioni dell'acqua, del nucleare e quello che Ciro ha detto benissimo prima nel suo intervento. E anche rispetto a quello che accade ancora nel nostro paese e quindi quello che è provare a rimettere in moto delle forze di mobilitazione vera. Penso all'appuntamento di quest'estate, dove credo non ci sia bisogno di inviti, che è il decennale delle giornate di Genova 2001, dove immagino che questa associazione riuscirà a investire realmente, ma non semplicemente i corpi, i numeri e quant'altro, ma riuscirà a investire realmente nel progetto che si sta costruendo all'interno di quel comitato che sta organizzando il mese, che vedrà dei dibattiti, vedrà discutere di tematiche, di temi che riguardano veramente la costruzione dell'altro mondo possibile e quindi riguardano le modalità e le pratiche contenute attraverso cui noi dobbiamo sconfiggere il capitalismo, perché io penso che ne discuteremo di questo e lo faremo però con delle modalità che non sono quelle nostre liturgiche alle quali siamo abituati, spesso e volentieri, nelle sedi dei partiti, ma proveremo a costruire una proposta, io credo, avendo partecipato alle riunioni, una proposta perché anche in questo Paese sia possibile una rivolta che non soltanto mandi a casa il governo, roba che sta tantissimo alle forze politiche e a come si sapranno giocare questa partita, ma che davvero sia in grado di non sostituire questo governo con qualcosa che faccia alla fine poco meno peggio. Perché lo dico? Lo dico perché noi oggi siamo qui a dare via a questo, con questo primo passo, a questa associazione e ovviamente ho sentito degli interventi di compagni che probabilmente sentivano messo un po' in discussione il loro senso o la loro appartenenza a una cultura, a una storia, a una tradizione che è quella comunista. Io compagni e compagni mi sono sentita molto meno comunista quando eravamo al governo, non abbiamo fatto niente per il mondo del lavoro, mi sono sentita molto meno comunista, quando i governi si votavano in guerra mi sono sentita meno comunista, quando non siamo riusciti neanche a votare per i dico, non per i passi, per i dico, quando non siamo riusciti, nonostante stessimo al governo del Paese, a dare un segnale di civiltà al nostro proprio, alla gente che ci aveva votato. Perché compagni e compagni? Il punto non è come dire come ci presentiamo, ci eravamo presentati da comunisti a quel governo e io mi rivendico, come mi rivendicavo allora di essere comunista, ovviamente non mi rivendico quel governo, non ci ha fatto parte fisicamente, però probabilmente avremmo fatto bene a non andarci, dato come è finita. Per cui questo è uno sguardo sul futuro, più che uno sguardo monito, nel senso comprendiamo bene la prossima volta che dobbiamo discutere di come vogliamo dare delle risposte al nostro popolo, alla nostra gente, a questo Paese, a questa generazione. Questa assemblea di oggi è una risposta, compagni e compagni, e qui diciamo, provo a dare delle risposte anche io ai dubbi che sono emersi, è una risposta alla domanda di unità delle nostre due organizzazioni, due organizzazioni giovanili comuniste che rimangono comuniste e che rimangono due differenti organizzazioni giovanili, che però si incontrano attraverso delle pratiche, attraverso dei contenuti, attraverso l'esperienza che sappiamo fare, le nostre relazioni, il nostro stare insieme, il nostro avere il coraggio di superare le diffidenze. Simone diceva, io vi voglio bene, voglio bene a tutti voi, io voglio dirvi questo, fino a poco tempo fa non l'avrei potuto dire, io invece mi fido, mi voglio fidare di tutti i compagni e compagni perché credo che noi, attraverso la fiducia e la relazione che riusciremo a mettere in campo tra di noi, a partire da questi due giorni che ovviamente è nata prima ed è nata altrove, riusciremo a mettere in campo davvero quello che collettivamente vogliamo produrre per la nostra generazione, per chi verrà dopo e per il mondo in cui viviamo. E quindi nessuna messa da parte della nostra storia, perché la nostra storia rimane nelle nostre organizzazioni, rimane nei nostri partiti, rimane in quello che scriviamo, rimane in quello che diciamo tra di noi nelle nostre iniziative, rimane in quello che sentiamo e rimarrà, perché io penso che l'idea del superamento, di un'opzione comunista in questo Paese sia un'idea folle, che io ho osteggiato all'ultimo congresso del mio partito e che continuerò ad osteggiare fino a quando mi sentirò comunista e spero fino alla fine dei miei giorni e fino a quando riterrò che ci sarà bisogno di comunismo in Italia come altrove. Per cui come dire, io penso che questo sia uno dei dubbi o una delle critiche che meno di tutte possa avere un'influenza sul percorso che noi stiamo andando a fare. Lo dico perché? Perché noi non vediamo, penso di poter parlare a nome del gruppo dirigente, sì Margherita, perché questa è una responsabilità del gruppo dirigente che come tutti i gruppi dirigenti è tenuto ad assumersi delle responsabilità e a dare delle risposte al corpo largo della sua organizzazione. Abbiamo pensato questa associazione alternativa di Baile e di Palca come uno strumento per le lotte della nostra generazione, delle nostre classi di riferimento, per i conflitti che già ci sono e quindi non come il solito, sterile, utile con il territorio a cui ci hanno abituato, a partire dalla sinistra arcobaleno che sì, erano meno comunisti, compagni e compagni, ma poi lo si presentava alle elezioni, era come dire il progetto di un nuovo partito politico, era una lista elettorale e lì andava rivendicato il senso del proprio essere comunisti, simboli della propria storia, le parole e termine della propria storia. Lì abbiamo sbagliato, non lo faremo più e infatti questa è un'altra cosa, è una cosa che facciamo per la nostra generazione, uno strumento che vogliamo dare alla nostra generazione, ai nostri compagni e alle nostre compagni. Che fare quindi? Il compagno Max nel suo intervento ha messo al centro un termine che non è un termine, adesso spiego perché, che a me è tanto caro, perché io credo che sia la base, esattamente come diceva lui, di qualsiasi formazione, struttura, organizzazione politica e sono le pratiche. Le pratiche nuove, che probabilmente fino ad oggi non abbiamo avuto il coraggio di utilizzare all'interno delle nostre rispettive organizzazioni e che io spero saranno invece le pratiche di questa associazione che andiamo a mettere in campo, le pratiche delle relazioni tra di noi, come ci insegna appunto il movimento delle donne attraverso il fatto che mai più ci devono essere pratiche violente che vengano percepite e subite dai compagni e dalle compagnie come appunto violente o antidemocratiche. Rispetto a questo io penso che se necessario qualcuno e qualcuna, a partire da me, debba fare autocritica e impedire che questa cosa possa succedere ancora, cioè impedire che dentro questo nuovo luogo, dentro questo nuovo soggetto, noi facciamo sentire un compagno, un solo compagno o una sola compagna non partecipare di quello che stiamo costruendo. Le nostre relazioni con il mondo, quindi la pratica della nostra relazione con il mondo, con i conflitti che ci sono, con i soggetti subalterni e non come li vogliamo rappresentare, perché noi non dobbiamo rappresentare il sociale, perché noi con un'associazione saremo il sociale, noi dobbiamo stare nei conflitti, nelle lotte con questi soggetti, non dobbiamo avere l'ambizione che legittimamente un partito politico può avere, ma noi no compagni e compagni, io vorrei che questa cosa sia messa al centro della nostra pratica politica, perché se esiste una frattura enorme tra il politico e il sociale, che ci andiamo ripetendo da anni e anni, ma che ancora evidentemente non solo non abbiamo indagato, ma alla quale non siamo ancora riusciti a trovare una risposta per superarla. Allora io penso che questo strumento e non questo contenitore, mi piace ribadirlo, debba essere messo a disposizione della ricostruzione di quel nesso. Appunto, che cosa fare quindi? Che fare, anzi preferisco dirla così, così diciamo ancora una volta spero di potermi dimostrare abbastanza comunista per qualcuno e qualcuno. Che fare? rimettere al centro le pratiche e quindi essere in tutti i luoghi dove soprattutto la nostra generazione viene intercettata da altri, come per esempio Casa Pound, che ha delle pratiche sociali che sono, come dire, radicalissime e che però entrano, che però aggregano e che però costringono quindi tantissimi giovani a diventare bulli nelle scuole, ad essere omofobi, ad essere sessisti, ad essere razzisti e a dare vita agli scenari improponibili ai quali dobbiamo assistere ogni giorno in questo Paese, perché io penso che loro abbiano un ruolo fondamentale, visto che parlavamo dei workshop e quindi il ruolo che ha avuto la giornata di ieri nella nostra discussione. Perché lo dico? Perché oltre a che fare bisogna provare a capire come fare le cose. Lo dicevo all'inizio, io volevo provare a fare un intervento che d'essere uno strumento in più e una spiegazione in più ai compagni e alle compagnie che sono venuti da ogni parte d'Italia qui, non per sentirsi dire appunto cose che già sappiamo e quindi con la retorica eccetera, ma per essere utile, perché in quanto dirigente di una delle due organizzazioni che ha dato vita a questo processo, se io non sono utile alla mia struttura, non vedo diciamo a che cosa devo essere utile, quindi ai miei compagni e miei compagni. Quello che si è discusso nei workshop, le modalità con le quali si sono discussi i temi, sono esattamente non soltanto i cardini della nostra azione politica a partire da domani, ma che erano anche quelli di ieri nelle nostre organizzazioni, ma sono anche come dire, i workshop hanno funzionato anche molto bene per le modalità che abbiamo tenuto. Io ho partecipato al workshop sui diritti e ho visto che c'era come dire una forma davvero serena e di confronto pacifico, appunto quella pratica non violenta in cui nessuno pensava di avere la verità rivelata da una parte, ma che si confrontava liberamente con compagni e compagni che legittimamente provengono da altre esperienze, dentro la propria organizzazione o anche fuori dalla propria organizzazione di riferimento e che quindi per storia, cultura politica e quant'altro possono avere idee differenti. E allora giungo al punto con il quale voglio chiudere l'intervento e cioè come e che cosa significa unità. Io penso che negli ultimi due anni, forse tre, il nome di questa parola, che è una parola che vuol dire anche forza, quindi una parola che poteva ridarci la possibilità di agire realmente all'interno del paese, dei meccanismi, dei grandi, dei grandi eccetera. Ecco di questa parola si sia fatto abuso compagni e compagni. E io penso che noi dobbiamo tornare a ridefinire, a rideplinare, a ridare un senso alla parola unità. Quindi anche dando una lezione, visto che più di uno ha detto che la federazione della sinistra è nata in una maniera sbagliata, poiché è anche il nostro soggetto politico di riferimento, io mi agrego alle critiche, le ho fatte dal primo momento per cui non vedo per quale ragione adesso devo nascondermi dietro un dito. E quindi proprio a partire da questo io penso che noi non dobbiamo riprodurre, e ci abbiamo provato, facendo degli errori, non dobbiamo riprodurre gli stessi errori. E quindi tornare al senso della parola unità. Unirsi perché si è in una condizione di difficoltà, unirsi perché si ha il stesso nome, unirsi perché si ha lo stesso simbolo, unirsi perché non è questo, perché altrimenti, come dire, si perde assolutamente di vista quello che invece è l'obiettivo. Ho sentito gli interventi prima che invece andavano nella direzione giusta, ed è quello che abbiamo provato, abbiamo voluto e abbiamo provato a mettere all'interno di questa esperienza. Unirsi perché si condivide un'idea, ma un'idea che sta nelle pratiche, che sta nel quotidiano, che sta in quello che non riusciremo a fare. Io, compagni e compagni, pazzo di noi, siamo già uniti, perché siamo insieme, perché facciamo tutto insieme, perché evidentemente non è soltanto il centro politico che ci dice che cosa dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare, all'interno di quali condivido di stare. Abbiamo scelto di fare un'altra cosa, abbiamo scelto di darci uno strumento in più, oltre a quello che già abbiamo, perché secondo me la vera unità possibile o la facciamo attraverso le cose che sappiamo fare, come le facciamo, quello che vogliamo fare dal punto di vista proprio di quello che ci riguarda come generazione, come classe, come soggetti del conflitto, oppure rimane una cosa che aggrega per una necessità e che però, come dire, a quelle necessità non risponde. Per cui io lo dico quasi come una sorta di consiglio, nel senso che credo sia giusto che alla fine di questi due giorni noi adesso torniamo nei nostri territori e adesso arriverò anche a dire perché questa cosa nasce qui ma non nasce, non so come dire. Qui noi stiamo provando a mettere il lievito di questo soggetto, di questa associazione, di questa alternativa ribelle per il nostro paese e per la giusta. generazione, ma penso che il pane dovranno produrlo, dovranno fabbricarlo, dovranno farlo e magari anche mangiarlo i compagni e le compagne che stanno nei territori e quindi a partire da quelle che sono le linee guida che noi oggi qui abbiamo provato ad elaborare in questi due giorni di discussione, riportare nel nostro territorio tutto questo perché lì nel senso della democrazia, compagni e compagne, cioè io penso che piuttosto che saremmo stati antidemocratici, avranno sbagliato, avranno fatto una cosa politicista, se avessimo dato vita in tutte le federazioni d'Italia, in tutti i cicli ad un'età fintizia in cui dovevamo stare insieme per forza all'interno di ciò che già avevamo, invece noi stiamo dicendo, compagni e compagne, c'è uno strumento in più, laddove sentite l'esigenza di stare insieme su tutto, prendetelo e fatelo vostro perché questo strumento non è nostro, non è per noi, è a partire dai nostri territori e proverà, io spero ovviamente perché non mi piace guardare soltanto il mio obilico, ma anzi spero che sarà, verrà percepito come uno strumento utile per tutti coloro che incrociamo, per tutti i soggetti del conflitto che incrociamo quando stiamo nei luoghi veri, cioè quando stiamo nelle piazze, quando siamo stati appomigliando a Mirafiori, quando siamo stati nel movimento per l'acqua e quindi come dire, provare a dare una mano alle risposte, alle domande che veramente la società ci vuole a partire da quella del prossimo 12 e 13 giugno, perché se ancora non abbiamo capito, quella è una domanda che ci fa veramente il paese, perché è una domanda di democrazia che non è più compagni e compagni e nella crisi che stiamo attraversando oggi non è davvero più un fatto bordese.